Allora ragazzi, qua a Bari sta a piove, e se piove noi lavoriamo lo stesso, le zucchine, di là abbiamo messo i pomodori, è vero Tonino? Sì, i pomodori per la salsa, ma dici che la stiamo metando un pochettino? Questo e questo Tonino, lo facciamo finire, e niente, questo è il primo video ufficiale di pomovero sotto l'acqua, yeah, ecco a noi la faccia matura, le piante messe, Siamo già pronti, per il gamzo andando bene, c'è anche il temporale, saluto Tonino, ciao, noi ce ne andiamo sotto l'acqua a mettere le zucchine, ciao!